Ciao a tutti cari amici del seno del leone, eccoci qui, nuova prospettiva, nuovo diciamo video, video rinnovato e molti di voi me l'hanno chiesto perché, visto che a tanti di voi vi è piaciuto l'orosco mensile diviso per segni di zodiacali, quindi per i 12 singoli segni di zodiacali, molti di voi mi hanno chiesto di provare a fare, sperando che riesca a portarlo avanti perché 12 video anche per questo sono comunque impegnativi da portare avanti, comunque ci proverò, quindi da oggi vedrete sul mio canale anche per quanto riguarda gli oroscopi settimanali i 12 singoli video per i singoli segni di zodiacali, ok? In questo caso voi del seno del leone, sono le previsioni per la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 aprile 2022, se vi ricordo, vi ricordo se vi va di iscrivervi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra, vi ricordo che queste sono energie generali quindi non possono valere per tutti, ok? Per quanto ci sono i miei consulti privati di cartomanzia, benissimo, incominciamo con le energie generali attraverso anche l'ausilio del mio oracolo emotivo, se volete acquistare i miei mazzi trovate qui sotto il link per accedere il mio shop online. Vediamo un attimino le minicette del seno del leone, vediamo, eh? vediamo una carta, leone, abbiamo la carta della melissa, ok? Andiamo a collegarla con l'oracolo del dragon man, vediamo, eh? vediamo, eh? vediamo, 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 vediamo in un rapporto o anche da puntista lavorativo ed economico state guardando verso una nuova prospettiva verso un nuovo orizzonte ok perché volete in qualche modo cercare proprio di apportare un cambiamento una rinascita nella vostra vita ok l'invito che vi aiuta che scusate che vi da questa carta durante questa settimana è proprio quello di lavorare su voi stessi anche utilizzando questo olio di Melissa perché è importante cercare proprio di distinguere quelle emozioni vere quelle emozioni autentiche da tutto ciò che è fuffa da tutto ciò che è diciamo pura fantasia o non è veritiero quindi attenzione a non farvi illudere a non farvi ingannare da false promesse o da certezze che alla fine non sono certezze cioè tutto fumo niente arrosto ok dovete lasciare da parte la vostra insicurezza ok e quindi è importante cercare di ampliare questi orizzonti di andare oltre di non fossilizzarvi nessuna situazione ok perché in alcuni casi vi avverto un po confusi c'è confusione dentro di voi ok dovete proprio superare i vostri limiti e andare oltre ok quindi questo è un messaggio comunque generale ma importante che per dare un quadro poi ancora più mirato alla lettura che adesso andrò a fare ok peschiamo altre tre carte andiamo a capire meglio la situazione ed è uscita la prima carta una verità viene a galla quindi ci saranno proprio dei smascheramenti ok quindi molto realmente riferendomi qua alla carta della melissa riuscirete anche a capire le diciamo intenzioni reali delle persone che avete di fronte ma soprattutto dal punto di vista emotivo cioè quel sentimento di quella persona a cui comunque state pensando è veritiero o è tutto fuffa ok o comunque se qua in generale una verità verrà a galla la papessa e la regina di denari sono carte veramente importanti queste qui sicuramente andrete maggiormente a fondo di una situazione volete comunque conoscere ancora di più e nel profondo quel rapporto quella persona quella situazione in uno o comunque più ambiti della vostra vita rifletterete qua alcuni di voi potranno anche iniziare un nuovo percorso di formazione di studio di stage proprio anche per ampliare le vostre conoscenze e per poi buttarvi anche con più sicurezza nel mondo del lavoro ad esempio fate affidamento sulla vostra intuizione sulla vostra sensibilità siate maggiormente ricettive ricettive captate comunque i vari messaggi perché quel messaggio diciamo non può arrivare o giungere a voi così per caso ok alcuni di voi si stabilizzeranno alcuni di voi lavoreranno proprio sul processo di radicamento ok però visto che è uscita la carta della regina di denari che è una carta di in questo caso figurativa quindi in questo caso potrebbe essere una donna del seno di terra per la regina di capricorno oppure portatrice portatore dell'ascendente vediamo un'altra carta vediamo eh qua vi immergerete anche nella natura farete magari dei picnic se il tempo lo permette delle scampagnate porterete avanti un rapporto e farete evolvere anche una situazione ok il 2 di denari anche in questo caso potrebbe esserci proprio una una scelta ok ripeto lasciate da parte le vostre eh titubanze ok dovete cercare di eh ritrovare l'equilibrio anche se siete un po' combattuti se siete un po' in bilico eh nei confronti di una scelta che molti di voi dovranno fare durante questa settimana alcuni di voi dovranno anche eh avere comunque quella quella forza quella determinazione anche quel tempo di gestire più situazioni contemporaneamente anche più responsabilità da puntista lavorativo o di compiti che vi verranno affidati proprio durante questa eh settimana è importante però per non arrivare alla fine di questa settimana o ancora peggio del mese ancora di più stressati oppressi dovete fare proprio un lavoro di eh stabilire le priorità cioè cos'è che è giusto portare avanti durante questa settimana cos'è che è giusto invece lasciare da parte un attimino accantonarlo ok quindi è importante anche proprio le priorità della vostra vita che cos'è priorità o per me durante questa settimana o durante il breve periodo ok riflettete anche su questo ok ma vediamo l'ultima carta dall'oracolo dei pensieri scusate vediamo qua c'è maggior praticità nell'affrontare le cose cioè avete bisogno di maggior certezze osserva i dettagli infatti è importante andare a fondo di una situazione di un rapporto osservate tutti i minimi particolari che appunto vi legano a quella situazione a quella collaborazione a quella relazione in amore in amicizia familiare e dopodiché attraverso questa osservazione attenta ok questa anche vostra dote sensibile che avrete durante questa settimana e anche farete affidamento sul vostro intuito riuscirete proprio a smascherare una o più situazioni e finalmente una verità verrà a galla ok smaschererete varie situazioni cari amici del seno del leone ok e queste erano le vostre previsioni vostro oscuro questa settimana vi aspetto sempre qui sul mio canale ciao a tutti alla prossima ciao 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 ciao